A pomeriggio 5 le stoccate di Beatrice Luzzi e di Mirta Merlino. Cosa centrano i Lunga L.O. e Ben Affleck? Cosa centrano Jennifer Lopez e Ben Affleck con le stoccate a pomeriggio 5 da parte di Beatrice Luzzi e della conduttrice Mirta Merlino? Sul finale di puntata di ieri, martedì 11 giugno, si è parlato proprio del tanto chiacchierato divorzio tra i due attori. L'argomento finale ha suscitato una serie di frecciatine da parte dei presenti in studio. L'argomento di partenza sarebbe proprio la presunta vendita della villa milionaria da parte di Jennifer Lopez e di Ben Affleck e che andrebbe a confermare l'imminente divorzio. Ma a pomeriggio 5 l'attenzione è in realtà concentrata su ben altro. Lo si comprende da quanto detto tra le righe dall'eccellente opinionista Beatrice Luzzi che, incalzata dalla padrona di casa sembra voler lanciare una bella stoccata a Giuseppe Garibaldi. Tu credi ai ritorni di fiamma nella vita? Le chiede ad un certo punto la Merlino. E la replica dell'attrice è tutto un programma. No. Non ci credo molto ai ritorni di fiamma sinceramente. No non ci credo. Non ci credo tanto alle minestre riscaldate. Ma quindi, cosa c'è da aggiungere in merito al gossip che riguarda il lunga L.O. e Affleck? Forse la migliore risposta la dà Davide Maggio in collegamento. Non ce ne frega niente. Si vendessero la villa ed essero una parte in beneficenza. A questo punto, ecco il colpo di coda di Mirta Merlino che sembra volersi rivolgere a Chiara Ferragni e dalla Fer Pandoro. Quella vera. Quella vera.